Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo su un gioco che si chiama War Thunder Un gioco che si chiama War Thunder Che è un gioco di guerriglia molto molto famoso E oggi siamo con un ospite speciale Ciao ragazzi, sono contento di partecipare a questo canale Non vedevo l'ora Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno Per fare il video con Alan Sist65 Iscrivetevi e mettete like questo video Oggi ragazzi andremo a fare Allora, battaglia nell'esercito Alto mare, flotta da tomare e per finire Ci teniamo più aperti nell'aeronautica verso la fine Giusto? Giusto? Sì, giusto Quindi iscrivetevi al canale ragazzi Lasciate tantissimo il mi piace Lasciate tantissimo il mi piace Ma adesso andiamo in battaglia Buona fortuna soldano Buona fortuna soldano Buona fortuna anche a te Anche a lei Anche a lei Eh vabbè Eh vabbè, non importa Allora ci troviamo a Cubano 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 Predominio Ah sì, Cubano Allora Fra Allora Fra Seguimi Perché so un botto di robe Che gioco da un botto di germe Ma io Fra So tutti i punti So tutti i punti deboli E così Per intanto sai scrivo Per intanto sai scrivo Buon dati Taccati Taccati Ok Via Bravo Vai al punto c Ti vedo Ti vedo Ti vedo Soldato Soldato Buon dati Buon dati Ciao 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 Avevo visto Vabbè E io Allora andiamo Andiamo verso Punto c Mi raccomando ragazzi Questa sarà una battaglia Molto 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 Financiante Speriamo che andrà bene Quest'in Ci vedo E' Italia Vengo.. vengo avevo nello... Vengo.. vengo! Vengo.. vengo.. vengo vengo Seguimi Oddio Oddio mio Allora Se ne sta uno Mi segua Eccolo 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 Mi tiravo un colpo Aspetta Ah Ma devi proteggere Aspetta Questa è uno che voleva Colpito Ok Buona cosa Buona cosa Allora Tu Pensa a quello che mi stavo sparando Mi stavo sparando Obiettivo distrutto Obiettivo distrutto Ricevuto Io vado su Io mi piondo sugli altri Ok Aiuto 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 Ma dov'è Stai Pazzì Mannaggia Soldato 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 Eccomi qui Oh Mi hanno Distrutto Da dove Soldato Fiacere In Stai No Oh Fuori 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 E io ormai sono morto Facciamo un altro Allora Andrò a sbagliare il mare Mi sento, c'è? Cresci, c'è un soldato Tra il punto a Io mi abito in un aereo E? E' apriunare, e' a cunzi Io faccio la saco da mitația, qua O io farmi in boscada Posibile? Posibile E' un'itare che faccio aereo E' un'itare che faccio aereo E' Stai con l'aereo? Cavolo Io sono la tedesca E' un'itare Molto Polpiti Oh Cavolo Sono a carico del 76 Je ne so due Un battaglio Colpito, colpito, colpito lo portai io colpito libero lo portai io colpito mantengo punti app mantengo punti app 易i bravo, stiamo a fare essa dalas non è che non è che è legittissimo che proprio non si prende l'acqua fai fallendo Sto arrivando un 502, grigio davanti a te Ok, ok, ok Sto arrivando un 502, grigio davanti a te 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 No, vabbè, ma guarda che culo Quale famo? Però io ho ancora un coso Io ho dovuto tornare all'angare per forza Io non mi arrendo Non so se posso rientrare in battaglia però No Se la fine di tutti no Io ho solo due gare armato Vado verso il punto C, vado verso il punto C T'aspetto allora T'aspetto allora Battaglia aerea da 4, 3, 2, 1 Battaglia aerea iniziata Augurami buona fortuna Ricevuto Ricevuto Cacchio, io ho 13, 20 No, è buono No, è buono Tu c'è mai un uomo più da me Tu c'è mai un uomo più da me Ok, abbiamo visto Allora torna all'angare Abbiamo visto Surgendo Abbiamo visto Ha ricevuto il gola profilo Allora, è buono Ehm, che facciamo? Arnaldica? Sì, Arnaldica militare Ricevuto Tu che metti, Dalia? Allora, è buono Allora, è buono L'unica Aspetta eh C'è sull'Italia c'ho tre aeree L'unica Sì, sull'Italia c'ho tre aeree L'unica Io faccio il bombardiere Caccia bombardiere Eh, io non ce l'ho Eh, io non ce l'ho Io sì Ma Celsa voglio marchettive Ma Celsa voglio marchettive No, la S81 Aspetta, aspetta Aspetta Qual è la S81? Qual è la S81? Eh, cercalo Ma Italia? Ma Italia? Italia? Sì Ah, Italia Ah, Italia Ma non cerca S81 Ah, ma ho capito Fra, è quello che c'è sul piccino Ma non ce l'ho sul piccino Ce l'ho sul piccino questo? Ce l'ho sul piccino questo Vabbè io vorrei cercare O ce l'hai ricattacco leggero Ce l'hai ricattacco leggero Pronto? Sì Ah, una mia buona fortuna Ah, una mia buona fortuna Buona fortuna Indario, bevo l'acqua Ma tu sai di era quattro? Ma tu sai di era quattro? Come fai adesso di era quattro? Ma non basta cosa si sblocca un'eree Non basta cosa si sblocca un'eree Ma che ne so Io faccio così a casa Ma mi sa che ti sblocchi il tom Che sta fra Ma mi sa che ti sblocchi il tom Che sta fra Mi sa Vero? Mi sa Non credo Non credo Ma dopo ci guardo Ma dopo ci guardo Niente a Kabul A Kabul Ma dai A Kabul Ma dai Ma dai proprio 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 Ma io friggio Ma ero solo quindi Ma pure io Mi sa fatica Mi sa fatica Però mi devi guardare le spalle Sono solo un trazzabombardiere Sto perito te fra Sto perito te fra Ok Io vado giù Perché ho bombardiere E' anche per giù Per una giudiziana Io non lo so se riesco a proteggerti Non lo so Devo andare dove le spalle Con me lo sia a me Non mi arci le vuote Allora fra Vieni Vieni se te lo Te lo definisci Aspetta Aspetta C'è un puntico rosso Lo davanti a me Aspetta Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? No Non lo vedi? Ma lei è venuta a terra Che è la sua terra? Ma stai a terra? 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 Non so No noo bolondriere boom eehh aiuto 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 brah No non farmi ilauro No non fare le av journeys ... ha fattuto il motore ai 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 ma non l'ho mai 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 non mi farà io non gliela faccio non gliela faccio non gliela faccio non gliela faccio perchè non gliela faccio perchè sto avvicinato io a degli altri ibiattigli ormai cioè se vuoi io provo anche l'altro quello che sta al sinistro, però... c'è, andi, siete vici, siete vici, siete vici, c'è bravo e io devo ritornare a passare l'anno uno è qua dentro, sta a guardar aspetta, ecco, sta vicino, faccio il cuore tiro, guarda, tiro, guarda, tiro, guarda ma... eh, non so, non so, non so va la passare l'anno non la passare l'anno senti, andrà, andrà, andrà no! va 30 minuti e che aveva una fortuna di un greco e il amico sta vincendo ecco, ecco, ecco che va non era che si abbandonava se si abbandonava se si abbandonava a questo punto, fra... aspetta, eh torna all'anno va, va, va va, restano 9 minuti dopo... tra 9 minuti me va a cacciare si, 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 tranquillo forse anche prima forse anche prima eh, semmai fanno questa ecco, chiediamo allora, ragazzi, come avete visto abbiamo fatto queste due battaglie che qua è andata non male di più e adesso faremo le battaglie navali e... si e dopo di che ci saluteremo eh? eh? dopo ci saluteremo dopo ci saluteremo si tu che metti, Italia o poi USA io, Italia Italia eh... eh... ah, eh... io, Anglioso che prima ciao sotto es vero sei adesso Ok, eccomi Sono pronto Si sei? Ok Ok Voi si vienessi a Boteina vale Metti brondo Metti brondo Prasso mi fanno Aspetta, abbandono il plodone e poi rinvio Sì, però sbrigate Sì, però sbrigate Sì Ok Viene il plodone Ma tu sei una Francia, fra No Sì Sì Stai taglia Ok Via Via Ma perché mi dice non vai mi cavolo solo? A questo punto fratello mi rifacere nardi No No, no, aspetta Fiamo battaglie terrestri Ancora carri armati? Carri armati Sì Ok E dopo di questa ragazzi chiudiamo il video E devo dire una cosa molto importante Sì, però fra Anche se non finiamo la La battaglia la dici, eh? La battaglia la dici, eh? Sì, sì Quando io la dici Quando io la dici Ok Pronto Sì Sì Via Ok Vabbè, aspetta La dico adesso Allora ragazzi Non me ne frega niente Che si dici Che sono scarsa Perché ho fatto quello Perché ho fatto quell'altro Ognuno ha la testa sua Ognuno fa come vuole Io Per me I commenti Me ne frego Quindi Se mi commentate A me Non me ne frega niente Che io sono qua Per fare Il mio video E Con Alebis65 Il mio miglior amico E Luca Righedemo Su YouTube Quindi È Favoloso E Io volevo Tire questo A me Mi porto Il mio Mi porto Io Mi porto Qua qui Mi porto 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 Oh Ma Questa Ma Questo Vabbè Ma Questo È scemo Però Eh Oh Molto 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 E poi ce la ridichiamo Spero Ah ragazzi, la stessa cosa vale per me Non mi giudirà L'importante è che Dio ti dimentico E' un'altra cosa 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 E' un'altra cosa